Allora, buonasera a tutti, stasera facciamo il video qui dalla cucina e non nell'altra stanza. In ogni caso auguro a tutti coloro che leggono e che vedono questo video tantissime belle cose. Siamo arrivati alla fine del 2023, quest'anno io e Enza abbiamo festeggiato i nostri 80 anni tra tante peripezie che appunto chi ci conosce le sa. In ogni caso tanti auguri a tutti coloro che vedranno il video.